Buonasera a tutti. Gianfranco Mancrabia, Daniele Vitale, Anna Rita Sergi, Tiziano Romagna, Mario Ottimo, Francesco Dominicati, Federica Sergi, Anna Lisa Stavarelli, Antone Pisana, Antone Fulano, Giovanna Sergi, Riccardo Amandituro, Sergi Vitino, Allora, costruiamo l'ora della seduta, passiamo un utile ordine del giorno. Potrei fare un intervento per eliminare fino a tutti i popoli. Prego. È un intervento un po' agrovolto. Un po'? Agrovolto. Gentilissimo di un'intervento che mi accendosi un padre è un intervento che si gratinizza anche per il forte coinvolgimento emotivo legato al momento dedicato a te del mio percorso. Due anni che sono, iniziava per me e per tutti voi un'esperienza tanto nuova quanto sembranasse. Il nostro paese vedeva, dopo un conculso periodo di intensi stravolgimenti dell'assetto politico all'epoca esistente, l'agroorganizzazione delle diverse coalizioni politiche, con le diverse sensibilità e con un modo nuovo nel confronto e nel dibattito politico. L'esito del parere ha dovuto riservarmi il ruolo dell'opposizione. Un'esperienza molto diversa da precedenti, affatti esaltabile. Anche in considerazione del livello di l'interventa espressiva che caratterizza il ruolo. Purtroppo, l'entusiasmo fisiologicamente legato di un ruolo è stato duramente e arrivato a te del tono indiettamente mortificato, nella mancanza di una varia di interproduzione con la maggioranza, che ha, spiace dito, preferito un atteggiamento cinico, non tanto nei confronti della stessa posizione, ma nei confronti dei progetti della posizione sempre affrontata nell'interesse dei cittadini. Nel momento è stata la scarsa qualità dell'amministrazione espressa e non è una scarsa qualità degli amministratori, i quali, in una loro indivindibilità, si distinguono per garbo e serra, ma è la nuova constatazione della mancanza di un progetto, di una visione, di uno prospettivo. E questo è sempre quello che è che ho dato. Non avremmo il terzo paese, non avremmo direzione ben definita, nell'azione amministrativa determina il dramma di un paese condannato da stare a quello, nello spirito, quando ormai non sono pochi per me. Si è tenuto da dimostrare l'incapacità di governare le efficienze e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'incapacità di difendere gli interessi della cittadinanza, i conti soppruzzi e dell'eurodizzi, chi pensa che sul nostro territorio sia luce di spiegare. Sono questi gli elementi che hanno fiaccare lo spirito immobile con cui ho deciso di affrontare questa nuova piattura della mia esperienza politica. Tuttavia, non sono questi gli elementi che mi occupano a realizzare le scelte di vostri cittadinati in cui mi sopporto. Dopo due anni di impegno diretto, non si dopo un'area, è giunto il momento di aiutamento e un percorso di condivisione e di coinvolgimento in un lato totalmente. Per questo, è necessario iniziare a dare spazio, per quanto possibile, a chi si è speso ed impegnato per l'idea di sorprendere nasce in domenica, e che ha visto nel mio nome solo un momento di sicurezza, ma che resta da loro idee. È giusto lasciare il massimo spazio all'idea di entusiasmo e alla loro capacità, nella consapevolezza che le idee sono oltre i tuoi. Il nome di una nuova dimensione, nella quale si dovrà affermare il primato delle idee e delle prospettive, ma anche per favorire eventuali nuovi processi di aggregazione, è necessario degli impegni, sia da domani profuso all'esperto del Consiglio del Consiglio. Pregammo, l'amico avvocato che vince in Italia, di farsi voce potente e incisiva del messaggio che ci appartiene, e che resterà il fine e l'ultimo dell'amiglazione pubblica. Domattina l'assegnerò delle missioni, tenendo però a sottolineare che questo non vorrà intendersi come un defilazio rispetto al confronto politico, poiché, all'opposto, è un momento di rinancio e di dire praticamente il tessuto democratico nella parte politica che ho cercato di lavorare in ultimi anni. Vi ringrazio per la certezza che mi avete sempre riservato, anche in modo ignorato per l'assegnero intergrante, ma in fondo anche voi siete consapevoli che l'intergranza coincide il mio grasso con un assieme. Ringrazio il gruppo che è da mattino per la costante collaborazione nelle attività politiche e ringrazio il mio amico intimo che mi è sempre sopportato, nonostante la propria regione che ho avuto mandato in correzza. Ringrazio tutte le persone della mia lista che hanno creduto le idee che nasce comunitari ed anche tutti gli elettori che hanno provato a far preparare le idee fatte di un'està, impegni, competenze, e positivi. Vi auguro un nuovo lavoro fondi e vi auguro di ottenere il vostro rinzorio di evoluto di verso una nuova unità, verso una nuova coscienza sociale, verso una nuova responsabilità. Grazie. Fuori dal documento e nel ringraziamento personale, mi ringrazio, se è che vi è venuto ammettare il nostro livello antipersonale. provato a parlare della porta di pubblica. Questa è la giornata per me, sui punti, sui punti, sui punti, a volte invece, abbiamo sempre provato con una ragione, diciamo, di grazia. Allora, all'aspetto emotivo del tuo intervento, io faccio un applauso perché comunque il padre si è dettato impegnativo per me, è scuola per me. Che si vedeva che, visto pure che per una persona impegnata come te, una scelta del genere si è parlata non di facile espernazione. Ma è molto semplice? Su. No, ma poi è chiaro che gli aspetti politici non saranno oggetti dell'intervento oggi, quindi va bene così. Intanto è per un apprezzo, un aspetto emotivo, sicuramente. Se posso finire un po', io, per un attimo, ho scambiato sulle parole. Volevo ringraziare, considerare molto, per l'impegno che ci ha messo in questi anni, per la passione, perché ho avuto modo di conoscere meglio, ci conosciamo già prima, però siamo conosciuti meglio, quindi di fatto confermo che quando c'è passione, certe volte c'è anche questa propensione di infuocarsi, lo dico perché probabilmente io sono molto simile a te da questo punto di vista, però volevo, al di là di tutte le motivazioni giuste, non è giusto, insomma, che ti hanno scritto a questo gesto, volevo ringraziarti per questi grandi di amministrazione, per quello che ti hanno voluto condividere, anche per i consigli che personalmente mi hai riporto da, e lo immagino a tutti, anche in base alla tua esperienza e a quello che si è piuttosto. Grazie. Grazie. Allora, intanto, intanto saluto anche il capogruppo e il capogruppo del capogruppo, il capogruppo, è il capogruppo che normalmente ha corrente la decisione dedicata e non l'averemo rigata a qualche settimana. Mi scuso, signor, sono stato presente i precedenti consigli e se posso permettermi tre e quattro domande da parte perché recuperare le notizie dal lente o perché mancava più di gente o perché c'è qualche ufficio ancora sprovvisto, diventa sempre più complicato. Quindi vi vorrei fare le domande con osservazioni su alcune delibie che vi ho detto da dovevo rimanere. intanto vorrei una domanda proposta a come cioè non c'è una niente in proporzione. Siccome più di qualcuno in questi giorni mi ha fatto questa domanda vorrei sapere se corrisponde almeno che siccome siamo scesi al di sotto dei 5 mila abitanti vi siete troccati nell'identità perché magari avete percepito da quando siamo scesi sotto i 5 mila e avete percepito per l'interno e adesso diciamo le vere sospese mi corrispondo a quello diciamo per alcuni mesi quando non proprio quando non però perché non non perché non sapevo cosa risponde insomma non mi è statunitico quindi poi volevo sapere se nel sindaco se il famoso apparto dei vari fotovoltaici l'ultimo non consiglio di un anno fa mi disse che sarebbero partiti da un ora dopo due giorni passò un anno però questi non 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 ancora ancora allora per il fotovoltaici dobbiamo partire inizio anno anche perché con i non responsabili si pensava di dare un po' di slancio ma di fatto siamo le donne a testa senza responsabili adesso abbiamo evaso 110 delle nuove del concorso che abbiamo indetto sperando che i miei raccini si donavano anche secondo me siccome iniziano i tempi contingentati ad oggi diciamo no che sui tantori perché invece avevamo avuto una prova di altri quattro mesi che sono passati a ancora allora la prova era dovuta problemi di sicurezza sollevati insieme di inizio lavori dall'alberto di lavori ora non so se i problemi di sicurezza avranno già ai passati quindi quanto è il progetto è perché su quello sono più fermato cioè nel senso quello che hanno i comuni e anche gli anni mi rinunciavano giusti tutta la comunicazione da anni da quattro anni e noi ci arrivavano ancora per quattro mesi dovevano chiudere questa comunicazione sono passate tre ancora non visto l'inizio lavori quindi non volete poi credo che di presto ha un livello di comunicazione tra il direttore lavori e l'ufficio perché a ridosco della scadenza era la comunicazione ufficiale di un incontri attenando la sicurezza all'interno della solitudine però mi ritrovano i freddimenti non so a che punto sia un'altra cosa poi mi dicono anche qui non so se corrispondo a vero perché quando mi fanno le domande sono stato attivato a darmi il beneficio del lugio che il comando dice l'avanzita è completamente chiuso riserva invece ne abbiamo tre è vero è vero cioè allora il numero di dici dipende tutta la scuola mattina vediamo che c'è parecchio grafico quindi quasi sempre il comandante c'è di mattina però è sempre l'unica unità di mattina che è veramente spesso fuori perché c'è di grafico stiamo 9-11 9-11 tutto il mattino 9-11 c'è stato un problema iniziale per quanto riguarda i passi delle sede spesso il gioco abbiamo risolto comunque 9-11 i due vengono fanno più servizio serata e poi deve stare venenese quindi questo è un'altra stessa per una mattina c'è stato qui per me rivolgo invece il calzio del piano comunale per due decente una billetta dopo abbiamo un po' letto l'approvazione della perizia di variante da un incontro iniziale di 101 a 118 siamo passati a quella perizia di 146 a 276 e 15 il segretario sbaglio ho le benizie di varianti non possono segnare il 20 25 o 600 dei forti lavori cioè già quel progetto quando l'ho visto un anno fa la prima volta già ho avuto un intervento di questo e tante sono andate diverse varianze insomma che non si è capito più il 20 non sono riusciti a seguire però qualche settimana si è stata pubblicata questa delizia variante del 50 per cento di un importe aggiuntivo cioè siamo sicuri che è una cosa legittima legica legale soprattutto una domanda non basta 101 a 150 allora c'è una detizia importante infatti è mille euro in un metro ma partiamo da un importo lavoro iniziale di 101 a 118 con tutte le perizie che si sono susseguite dai miei mesi siamo arrivati alla attivizia totale finale di 146 276 euro in terreno quindi per me sono 45 48 per cento in più voglio dire stiamo in vacanza ma io per cosa ne guardo non so prima non mi sembra cioè questo non mi sembra un atto decimo così mi permetto di dire non mi sembra un atto decimo dovremmo andare a ripostruire tutta la ricetta ma io mi sembra che sia stata proposta tra nove e dicembre lo scorso anno com'è però bastiamo un progetto approvato esecutivo di 101 mila euro e approviamo le inizie di la piante fino a 180 euro cioè 45 mila o che più potremmo andare a vedere le inizie preghi ma secondo me non per me questo è un naso che mi sembra forse capisco anche nel tag no dello svolto della mila euro evidentemente la documentazione è un po' po' l'altro aspetto riguarda il responsabile del settore finanziario e qui sinceramente non ci ho capito nulla perché si fa una delita in cui si chiede la convenzione del pubblico comune di Diciano che è una professionista di galliano motivando la necessità della mancanza dei dirigenti in quel settore allora e qui porta anche il consiglio ho solicitato la prostituzione di quei concorsi che erano stati dal non dal sindaco che è scolo assessore colate erano stati stati dall'amministrazione comunale di Degano del capo sono quasi due anni che stiamo senza responsabile del settore finanziario avevamo un concorso con tutte le domande già presentate fu fissata una domanda eseretiva perché il giorno prima di fissata ci fu il decreto che bloccava i concorsi per il covid è stata sbloccata il primo avvio del 2021 sono state sbloccate le procedure con costruzioni non si ha fatto nulla non avete detto che i signori hanno numerato il concorso me lo sarei quanto meno aspettato da parte giuranzi non so non si hanno 100 150 avete fatto un avviso pubblico per per assumere una persona a tempo determinato come responsabile del settore finanziario per un anno a tempo determinato per esempio le domande dopo tre mesi bloccate del concorso poi guarda il caso esce come avevano i ammigiani mi precipitate a prendere quella persona motivando la generità diciamo della situazione non dico altro qualche giorno fa adesso qualche tipo sul basso è un momento basta allora innanzitutto vado a memoria scorta a parte che il progetto che indetta il procedimento è quale se non le piace è poco di mancisi perché pensa a piano che è operato quindi no allora allora si non ho parlato nel progetto della vendetta allora con gli importi ti posso dire una certezza però sì sì allora si può parlare della vendetta degli aspetti delle criticità delle possibilità cioè della vendetta la possiamo parlare però io non ho parlato della progettuale io ho parlato della parte finanziaria finanziaria è la parte progettuale e l'amministrativa del progetto noi non abbiamo i documenti per parlare di importi precisi però quel progetto è partito già a chi era 12.000 euro che è quella cifra che si diceva aggiungendo tutte le aspetti e a 170 avversi o di acqua contro il messaggio e qualche attuale importano la loro perché la quale si deve applicare la variante del 26 di limite 25 di più per quanto riguarda lo scoprimento è stato fatto anche su altri settori ma al di là di questo lo scoprimento del 26 di ragione lì credo che sia stato fatto in tempi molto prima del concorso in questione ma così come è stato fatto la chiesa di scoprimento per il comandante dei liciti ora se il problema è che non c'è dire no allora si facciamo così lui è mio io ho la chiesa di scoprimento si informa e si lega gli altri e poi risponde anche per il scritto se vuole però non mi dica cosa così perché sta andando nel pallone no ma se la chiesa non si deve fare il discorrimento per la riunità prima che venga la sala come un concorso voglio dire non la voglio non la voglio fermo restando che non c'è niente di paragonabile quello che ha fatto lo somone con la paragonia non c'è niente però io ho detto siccome per cose del genere diciamo qualcuno si sta trovando cioè stiamo attenti la cosa come ci muoviamo non c'è se no perché noi arriviamo in fronte la cosa non ha esistito oppure arriviamo in fronte la cosa però diciamo l'inter di questa procedura non è il impito ok mi assumo le responsabilità di quello che non credo non credo che avete comunicato a quei cento centocinquanta ragazzi ragazze che hanno partecipato a quel concorso presso l'amministrazione comunica Adriano del Capo non avete comunicato che quel concorso è stato annullato perché non c'è nessuna comunicazione mi sarei aspettato visto lì la trasparenza la morale l'apertura tutte le belle parole che avete riusciato per fare elettorale che quantomeno avreste avvisato tra le persone che un concorso non ce l'ha aspettato è la strada non l'ha aspettato poi avete fatto un avviso voi dopo tre mesi che avete una delle domande l'avete anche annullato voi mi fate un altro come vedete dobbiamo muoverci per la generità della situazione è da un anno che lo sto dicendo di consigli mi ricordo che mi rivolsi anche di da fare perché mi rivolgerete senza personale senza amici senza cosa mi fu detto anche la risposta mi fu detto che bisognava prima verificare la situazione poi e io risposto prima si pianifica e poi si pianifica e poi e poi si pianifica non si può arrivare al al trasferimento al pensionamento o a perdere il personale di questa ragione e poi di assumere certe cose si fanno si programma e si pianifica un minimo io risposto che sì in effetti ci stiamo provando in diversi settori con una mancanza di benificazione tant'è che il comune non è un'amministrazione il comune ne soffre perché poi da un giorno all'altro non abbiamo le figure presso gli uffici che possono rispondere al cittadino sul momento scusate se è di lungo però credo che io volevo solo un altro sulla questione del del bambino progetto per la soluzione a tempo del binario 510 no? che non c'è pensiamo che la fra di generale mi limito solo a quella cosa è stato bloccato per il momento perché fondamentalmente mi stava sorgendo l'idea che poi diventava una necessità di fare in modo che quella l'unità venisse assunta con filo elettrico perché il filo elettrico era un po' in come dire sotto pressione molto lato punto di vista nonostante avessimo due responsabili a comando però la percentuale dei 110 che potevamo fare di fatto lasciava niente soltanto 18 ore quindi questo è riferito solo al perché non si è stato eseguito al 110 solo questo nel senso a un certo punto si sono detto di spettare un attimo perché forse col fatto che stavano entrando tutti i progetti del PNRR c'era l'idea di voler nessuno con la comunità perseguire di fatto le progettazioni di scrivere gli progetti del PNRR poi dopo è successo che addirittura se ne andò da anche responsabile dell'ufficio dei Ciro e quindi di fatto poi il 110 ce l'avevo fatto perché mi hanno fatto questi giorni per l'ufficio del PNRR ma era un 110 che lo resta in supporto tant'è che abbiamo fatto il 110 contestualmente abbiamo anche un'altra solitembre di quel concorso dell'ufficio dei Ciro che ciò è un'altra però diciamo che è una risposta potete vediamo per buona però voglio dire che se una persona a tempo determinato poterete sprendare il concorso un anno e mezzo fa e prendete una persona a tempo determinato se è persona nel mezzo con tutti i sacrifici e mi rendo conto che ha toccato subito il segretario perché all'interno sostanzialmente lo ha toccato il segretario di aver pensato il senso finanziario e quindi con tutti i ritardi ci sono stati per quest'anno in mezzo in cui si è proprio venuto con la celerità che avete descritto nella legge va bene allora cominciamo con un'azione del gioco così approvazione punto 1 di programma azione 2022 2028 allora documento che come sappiamo già si di sostituire le lezioni una parte strategica dove diciamo è più ancorata l'andato avvistativo che all'anno del minaccio la fase della prima dove comunque stiamo allontati più pratico alla previsione e di durare la giornata interiore chiaramente anche quest'anno come l'anno scorso io nel tubo dell'anno scorso chiaramente si doveva evidenziare l'aspetto della pandemia che in effetti purtroppo crea disagi più che altro di natura sociale e paesi e quindi comunque mina un po' quelli che possono essere anche le previsioni politiche dell'amministrazione quest'anno anche se è stato chiuso diciamo questa emergenza 30 aprile di fatto viviamo oltre che con la pandemia anche un rincorso che per tanti aspetti pregiudica anche quella che può essere stabilità del bilancio spesso purtroppo quest'anno a fronte anche agli interventi ministeriali come dire abbiamo nel capo ha avuto circa 18 mila euro per compensare per i che sono i cari energia e gas comunque il bilancio abbiamo spaziato ben più alto di quelle che il ministero accedava ma è ancora una cosa risaputa nonostante questo per un altro il ministero ha dato la volontà ai comuni inizialmente approvazione del bilancio di poter applicare subito l'avanzo libero destinato solo esclusivamente a copertura di spese energetiche e gas visto la situazione attuale il comuni di Galliano non ad oggi che è riuscito almeno ad oggi a applicare il bilancio anche senza applicazione di avanzo in questo momento e fortunatamente le previsioni negli ultimi 20 giorni ci fanno anche scalare leggermente visto che c'è un piccolo cambio di rotta ai fini dei costi di energia e gas speriamo che sia duraturo anche perché se il aumento deve essere continuare le proporzioni che sono viste da inizialmente oggi è chiaro che probabilmente tutta la situazione comunale di Soro dell'Ano dovrà ricorrere all'avanzo per poter compensare i maggioramenti inizialmente al netto di questo il nostro bilancio al di là del parlamento delle strategie ovviamente però è chiaro che alcuni numeri dobbiamo anche di seguire una sezione strategica perché al di là di quelli che sono i numeri devanti dall'ambiente democratici che già sappiamo che sono piuttosto traumatici per noi purtroppo ripeto la parte politica viene leggermente compromessa anche perché ripeto quest'anno ma oltre elementi derivati dell'energia e del gas abbiamo dovuto proprio volete subire anche se è un problema di avere un aumento del fondo credit di fiducia di sicurità che negli ultimi due anni è passato dai 100 a 100 90 euro e a questo aggiunga pure un fattore che la conflittologia o salva no no li sono trevi di dubbia e stabilità dal 2020 al 2022 passato 112 a 152 a 190 questo purtroppo è un fattore che può essere anche corretto perché è un problema della tua amministrativa quindi diciamo che se gli uffici parla a essere più precisi probabilmente potremmo veduto probabilmente comunque io voglio dare dal bilancio una colpa mia non vuole assolutamente declinare le colpe ad altri invece un fattore che sicuramente impegna il nostro bilancio in modo sostanziale ma è preoccupante da un punto di vista sociale le rente per i minori in istituto sono praticamente aumentate il 50% ogni anno in tutti i tre anni quest'anno abbiamo impegnato a bilancio 172.000 euro di rente per i minori in istituto per i dati per i dati che abbiamo oggi e mi auguro che non peggiorno perché previsione di miglioramento attualmente non mi auguro sbagliare in questa brutta posizione ma ripeto l'idea di perciò che il bilancio è preoccupante con un punto di vista sociale perché comunque la rente per i minori in istituto sempre sono accompagna del giudice dei minori quindi voglio dire che stiamo parlando di situazioni che ovviamente voi in passato avete voi distrutto di conoscere bene il problema sociale quale quale quella sentenza che si caricavano le rente i comuni dove era si parlava la struttura che li rilevano poi ci pubblicò sulla parte mi ricordo come si è definito con residenza con residenza di esatto sì allora a fronte di questo ovunque a fronte di risorse non certo froide sicuramente da un punto di vista operativo devo riconoscere che la mia maggioranza che che mi possa dire è il consigliere Monteduro comunque obiettivi rispetto al programma qual cosa è chiaro che la fronte di 20 punti programma a due anni di distanza con tutta la fatica a realizzare quello che è la macchina amministrativa non mi sembra che comunque con il percorso siamo adeguati per il programma elettorale con le lezioni non mi sembra che non che potremmo allora all'interno del programma nostro per esempio il presentatore ambiente non aveva parlato ma anche il dotto dei finti ora siccome diamo a Cesare perché di Cesare io devo veramente ringraziare la stessuale legata all'età 16 perché non ha anche tanto consenso abbiamo prima completato l'ecocentro messo a gestione si si allora l'ecocentro finanziato e organizzato la regalizzazione poi comunque ovviamente lo resta operativo allora il merito della stessuale non è quello che ha realizzato l'ecocentro anche perché è quello di contenenza dell'ufficio dell'assessore però a fronte di un primo momento ottobre praticamente quando abbiamo avuto l'ecocentro abbiamo dato comunque l'agente un po' di tempo anche per capire come funzionava perché è coinciso anche con l'umido con la cotta dell'umido però da gennaio molto si è dopo la spesso anche lo con il trappolo e devo dire che qualche effetto sul territorio si vede poi è chiaro che se uno va a realizzare la simbola di scarica che ancora magari si capiera ma all'erro generale e io ho anche gli interventi numericamente parlando oggi si deve dire molti meno rispetto a due o tre anni fa l'esenza dell'ecocentro è una cosa certo è importante però all'inizio la gente ancora non capiva l'utilità che continuava a sgarzare il bordo strada poi con un po' di interventi anche che vuole capo ha dato un risultato questo devo dire ma l'unico del evento o ci sono state le sanzioni credo che fosse una sanzione al suo effetto veramente non ma l'unico sono state le sanzioni poi dopo sì sono state le sanzioni sono state le sanzioni sì sì e sempre solo sempre sul programma il sempre il mio assessore la reta seggi ha parlato al parco di ricongruzione delle giornate ecologiche tutto anche scritto quest'anno per esempio non ha voluto parlare di una ecologia in giugno ha fatto una cosa specifica quando c'è una situazione una in tre case e una d'oggetto proprio perché l'educazione secondo il delegato non è solo quella di prendere la zona ma educavano ad un senso civico e soprattutto più differenziale quindi questo è un effetto marginale perché se adesso vediamo un argomento più sciuto se andate sotto i 5.000 affidanti ricordo diciamo che il vostro obiettivo è le università il ritorno e in buon sì no ma c'è un'attività che l'ho fatto no ma c'è un'attività che sono importanti non abbiamo programma l'entività proprio però un'attività che se ci può essere stata l'attenzione un dialogo di spazio ecco c'è non è che voglio dire stiamo armando nulla con l'assessore che si impegna tantissimo però voglio dire il centro della recuperazione della giornalatologica non fa parte di vasto di un'istituzione non neanche dal sesso l'altro no allora si non può essere il loro assessore che è mai convertito al giornalatologico esatto no no cioè ma lo dico il concetto scusate scusate guarda mentre stiamo parlando di la parte strategica quindi parliamo di quello che può essere la visione no parliamo di obiettivi che noi abbiamo inserito nel nostro programma è chiaro che se subito gli obiettivi oggi ho messo un attimo con gli obiettivi ora mi sento una serenna anche sono sprecato qua a fare altre cose non più immagino quindi per oggi per esempio non voglio che venga seguito l'aspetto ambientale perché parliamo del futuro fisico quindi non vorrei cadere la tentazione di discutere un settore così importante prego ho solo un piccolo intervento io mi occupo di digitalizzazione solo visto che per quanto ero saltati mi dispiace non lo sapevo da tanto gruppo ora sto parlando o non parlo anche io tantissimo soprattutto su quando abbiamo lavorato insieme per la lotta da riaprire l'ospedale per chi di me pensa e sinceramente immaginavo comunque nella mia testa che la collaborazione ci fosse stata però assolutamente ovviamente prendendo comunque l'esperienza tanto per me da parte politica ho visto un tratto molto tanto in trattare il gruppo nello specifico in particolare sugli argomenti che abbiamo trattato questo con i miei parenti se l'avrei fatta alla fine però parlando dell'introgramma non è una giustificazione ma voglio dirlo perché in consiglio questo argomento non è stato mai adottato e per arrivare a lavorare e a raggiungere degli obiettivi e lavorare sull'introgramma parte che abbiamo fatto un po' di anni da decidere il freddo del dubbio però ci vogliono gli strumenti come voi ben sapete parliamo tanto a te che immagino a livello manageriale non sa a fianco come si lavora seguiamo con gli strumenti di base complessi di computer un sistema adeguato per poter far lavorare gli uffici per raggiungere determinati obiettivi capite che è difficilissimo e da questo punto di vista la nostra amministrazione magari non si vede molto all'esterno per quello scelgo a dirlo però è un lavoro che si vedrà nel periodo non nel prego l'ufficio lo vede nel prego e la cittadinanza lo vedrà nel lungo però tutti i servizi alla cittadinanza i servizi stessi e tutto quello che viene chiamato digitalizzazione nel 2022 noi sinceramente siamo arrivati a una situazione molto molto complicata e molto antiquata lo posso dire da delegata quindi sento la responsabilità che voglio dire per cui quello che so che è una realtà per quello che stavamo dicendo prima però che raggiungere i documenti in un programma ci vuole anche quello e soprattutto tutto quello perché i uffici devono lavorare in condizioni anche i domini nel 2021 tutti i cambiamenti che ci sono quindi abbiamo un po' di tempo grazie senza porto però nel frattempo almeno le cose importanti per esempio che io ho avuto anche la loro ma non è stato tutto no ho detto ciao nel frattempo in cui ci si giustamente ci si apprezza però sono alcune emergenze non possono essere non affrontate perché si sta facendo altro c'è il frattempo c'è il frattempo in un grande step di salve in realtà è devastante e nessuno che passano gli anni non conserva questa ragione passano la terza e nessuno ha fatto un segnale secondo voi questo è un atteggiamento giusto c'è un atteggiamento giustificato per non dire che ci manca la saggamentazione oppure il segnale di no però la via non era una giustificazione è un tanto un posto dicendo c'è stato anche tanto lavoro grazie a tutti questa l'altra l'altra lì ma questo è già un'altra in giocatura di me è un'altra per il corso per essere la consapevolezza di fare le differenze di carini cioè essere l'unico strumento che ti serve in certi altri quindi è una situazione di realtà allora io capisco che alla centralizzazione stavamo due e tre passi indietro però ti insegni no e se manca l'essere umano dietro a una macchina no e quando abbiamo solicitato e abbiamo solicitato i concorsi che stavano sospesi il personale che mancava cioè voi non è che avete provveduto non ce n'è l'età due anni fa a mettere dietro quella macchina l'essere umano e poi il programma e il software poi avete pensato solo a mettere il software e non voglio aggiungere l'altro con incarichi anche qui diretti senza diciamo sentire più aziende avete pensato a questo senza prima mettere la persona dietro una macchina quindi allora che siamo che bisogna raccontare la storiella della digitalizzazione te lo dico io che stavano non è la digitalizzazione ma gli studi in base di serma ma che c'è sempre quando noi gli abbiamo detto davvero con il cuore delle mani cioè signore fate perché ci troveremo ci troveremo in questa situazione e già non è che siamo stati molto ascoltati quindi quando riguarda le politiche ambientali sicuramente l'assessore sente una persona attiva e diciamo l'ambiente è un aspetto importante però mi ricordo anche qui che l'ecocentico quando si sono conclusi i lavori andatevi a vedere quanti mesi ci avete messo per metterlo in funzione andate a vedere no altro che c'è le unità seconda cosa io capisco che si riconvertano queste giornate ecologiche avete chiamato giornate ecologiche avete chiamato due associazioni esterne ma mi chiedo vi siete resi conto che un concetto per poi i disgraziati i marinai di cui faccio parte non c'erano i giorni non c'erano le associazioni o meglio o meglio o meglio erano presente qualche associazione come l'evento un e mezzo due forze c'erano c'erano di questo cosa che avveniva e avviene perché tutti siamo travi a parlare poi quando dobbiamo rimblocarci le mani ci siamo ci troviamo sempre con i soliti personaggi e allora dove stanno tutti quei giovani dove stanno dove stanno tutti quei giovani che fanno teatro che fanno busca che fanno che ne so sport la sensibilità ambientale si manifesta anzi l'amore che sui proprudenti si manifesta soprattutto in quelle fasce giovanili e lo si dimostra soprattutto rimblocandosi le maniche allora io ho visto delle foto o quello che è stato in mattina venerdì mattina di sabato come non so se mi hanno detto non è se la cimangerebbe succede e succede così non è cambiato nulla però quando c'è la ricorcazione le mani si tratta che i soliti che si cioè quindi poi ci siamo chiamati l'associazione l'efficacia l'associazione ma se non non lo mi è stimolato perché li possiamo stimolare ma se non lo l'abbiamo stimolato c'è ancora una mancanza di passione di motivazione nei giorni 12 perché non si alzano manco alle 11 in interno per prendere le statunie nella strada perché si vuole a correre una grata per terra cioè non è non solo le strade che si trattivano se gli chiami non ci vengono manco alle 11 del mattino cioè questo è il problema fondamentale che non dipende né da la realtà né da l'esca né da il problema né da l'amorci allora annetto di quelle che sono le vostre considerazioni che apprezzo nella loro sincerità dalla parte in cui giustamente c'è possibilità di volare come ci possiamo sforzare sensibilizzare ma la popolazione deve metterci del suo un'altra situazione che ormai inizio luglio abbiamo fatto la giornata della sensibilizzazione che voleva sì era il perfetto di un fatto di un po' che sarà un po' quello è il nostro gioco invece la giornata mentale perché comunque si coincideva la convoce anche la giornata dell'ambiente e allora abbiamo fatto la preparazione però ripeto gli obiettivi che questa amministrazione sia proposta magari marginali minimali io comunque ho il dovere di evidenziare così come quando c'è di evidenziare tutta luna da parte mia lo faccio però soprattutto per esempio anche per quanto riguarda la digitalizzazione allora io faccio una domanda sulla gestione del nuovo software poi abbiamo fatto anche i preventivi delle votazioni l'ufficio quindi la finalmente sono fatto tenendo conto di vari parametri e allora io mi chiedo una cosa con il nuovo software abbiamo fatto un rendiconto senza responsabilità finanziaria approvandolo il giunto già il fine maggio il fine l'ultimo il giugno abbiamo fatto il consiglio in tempi che il colpito trafondo esternale era impensabile allora parliamo di due parla tre mesi di tempo di distraenza per quanto riguarda l'aspetto social gestionale quindi è chiaro che questo lavoro che stiamo facendo che il telegrafo stiamo facendo è chiaro che all'esterno non mi va neanche di digitalizzarlo non mi pensi neanche uscire fuori e si mantiene le cose qua però digitalizzare l'ente è vero che ovviamente dietro la macchina non c'era pure l'uomo quindi comunque abbiamo comandato i vici avremo un responsabile finanziario attualmente abbiamo anche un responsabile dell'attore generale quindi è chiaro che abbiamo anche previsto un nuovo stile sociale proprio nell'ottica del turnover prima che vada in pensione è meglio assumere un altro quindi con tutte le difficoltà con tutte le ragune e tutti i limiti nostri per carità però ricordo sicuramente sul punto di vista personale forse un po' più di generità da un buono metterla ma vi posso garantire che il cambio del gestore il cambio del gestore generale ha portato due o tre mesi in risparmio l'ufficio finanziario che dice per il riconto su altri obiettivi anche sui tributi credo che l'ultimo accertamento che credibile risale è la 4.018 quindi questa non è una politica che è entrata in bilancio chi ha messo un istruttore che ha lavorato l'anno scorso che è lo stesso dall'altro quest'anno in un mese e mezzo ha fatto un lavoro che tra l'altro è molto più cercosino molto più dettagliato rispetto all'anno scorso rispetto ai 4-5 mesi che ci avevano già messo l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso quindi è chiaro che la macchina diciamo che essendo proprio lei diciamo non lo so mi date le risposte sempre che mi invita a rispondere però allora intanto c'è stato un aggiornamento ancora epocale due o tre anni fa no? siamo passati dal bilancio vedete che si è realizzato alla bilancio che con questo passaggio tutti i responsabili sono trovati in tipo attra quindi due o tre anni quindi adesso esigono una certa inatticità e quindi è logico che adesso i bus ma le faccio presente comunque che il bilancio di risoluzione con molti altri comuni l'hanno già trovato cioè noi possiamo voglio dire non so di ultima ma sono castagnani che l'hanno fatto 12 giorni fa cioè voglio dire il trend è un po' di tutti comuni e abbiamo fatto chissà che cosa il rendi conto il rendi conto è più complicato di fare il rendi conto chi è? no pensavo che l'avessi ma non rendi conto comunque o rendi conto o bilancio diciamo siamo al di là della città di un'azienda di un quarto era quello che è ma perché abbiamo avuto un cambio generazionale nei superfici lo sai che c'è lavorato noi prima 4-5 anni fa c'è un financino arrivato dalla mattina lì con copra quindi per il controllo del software la giornata non è per essere un esempio importante ma per ricordo siccome istruttore che ha lavorato la parte diciamo da istruttore appunto era la stessa quindi quest'anno è chiaro che il merito di aver accettato molti procedimenti sicuramente qualche responsabile ha dato di fare di fare risposto scendere cambia sarebbe stato assoluto Grazie a tutti 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 e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti